Cos'è la meningoencefalite? Quando un agente infettivo come un virus, un fungo o un batterio entra nel corpo, il sistema immunitario di solito invia globuli bianchi per combattere l'infezione. Il risultato è spesso un'infiammazione nella zona interessata, caratterizzata da dolore, gonfiore e arrossamento. Un'infiammazione che si verifica nei tessuti cerebrali e generalmente chiamata encefalite, e quando questo colpisce la membrana che copre il midollo spinale e il cervello, viene definita meningite. Quando entrambe le meningite e le encefalite sono entrambe presenti, la condizione viene spesso definita meningoencefalite o talvolta encefalomeningite. La meningoencefalite è spesso associata a molte altre condizioni. Queste includono infezioni virali come il morbillo, la febbre del nilo occidentale e la rabbia. Il morbillo è comunemente visto nei bambini e di solito è caratterizzato da eruzioni cutanee e su tutto il corpo. La rabbia è spesso trasmessa attraverso i morsi di animali selvatici e domestici infetti. La febbre del nilo occidentale si contrae attraverso i morsi delle zanzare infette. Esempi di infezioni batteriche che possono anche causare meningoencefalite sono la malattia di lime e la febbre di Pontiac. La malattia di lime viene solitamente trasmessa dal morso delle zecche infette. I batteri che causano la febbre di Pontiac spesso prosperano in fonti d'acqua come piscine e docce possono infettare le persone esposte a queste fonti d'acqua. Infezione con il parassitana e gloria foley riporta comunemente ad una condizione nota come meningoencefalite e mebbica primaria, PAM. Questa è una malattia rara, ma spesso devastante, che causa la morte diversi giorni dopo l'esposizione al parassita. La diagnosi e il trattamento tempestivi sono spesso necessari nella gestione dei pazienti con PAM. I sintomi della meningoencefalite comprendono febbre, rigidità dei muscoli del collo, mal di testa e vomito. Molti pazienti hanno anche avuto convulsioni, cambiamenti nel comportamento, alterazioni della coscienza e perdita di memoria durante l'infezione. Alcuni possono presentarsi con una paralisi parziale delle braccia e delle gambe. Nei neonati, potrebbe esserci un regonfiamento della fontanella, un'area morbida che può essere avvertita nella testa del bambino. I medici di solito diagnosticano i loro pazienti basandosi sulla loro storia clinica, sui loro sintomi e sui risultati dell'esame neurologico e fisico. Possono anche essere effettuati test diagnostici, come esami del sangue, test delle urine e analisi del liquido cerebrospinale, liquido cerebrospinale, il liquido contenuto all'interno del midollo spinale del cervello. Una scansione tomografica compoterizzata, TC, così come la risonanza magnetica, risonanza magnetica, può essere eseguita per rilevare le infiammazioni nel cervello. Il trattamento spesso dipende dall'agente infettivo che causa la meningoencefalite. Farmaci antivirali o antibiotici sono di solito somministrati in caso di infezioni virali o batteriche, rispettivamente. Altri farmaci vengono spesso somministrati per alleviare il dolore e il gonfiore nel cervello. Casi gravi di meningoencefalite spesso devono essere confinati in ospedale per la somministrazione endovenosa di farmaci e il monitoraggio dei pazienti.